Pochi giorni dopo quella degli Alpini, Piacenza ospiterà un'altra adunata, ovviamente con un numero molto minore di partecipanti. Si tratta del Convenio Evangelico dei Sinti, organizzato da Adimez e dalla Missione Evangelica Zigana nel periodo che va dal 19 al 27 maggio. In questi giorni si stanno esaurendo i passaggi burocratici. A quanto pare il maxi tendone blu che ospiterà Sinti e Rom da tutto il nord Italia sarà montato a Montale o nel parcheggio di Piacenza Expo. Ne sono attesi in minimo 500 al giorno, con punte anche di mille negli appuntamenti clou. Saranno nove giorni di incontri in cui leggere, spiegare e cantare la parola del Signore, ha detto Davide Casadio, uno degli organizzatori, con momenti per i giovani, le famiglie e le persone più deboli e bisognose. Sarà un convegno aperto a tutti, a ingresso libero, in cui sarà ben accetto chi vorrà ascoltare la Bibbia e confrontarsi sui suoi insegnamenti. Ma la Lega Nord insorge. Piacenza non è il ricettacolo degli zingari. Siamo pronti a scendere in strada per protestare contro l'assurda decisione di ospitare in città il maxi convegno dei Sinti e del nord Italia, che ancora una volta hanno scelto il nostro comune per i loro raduni, a testimonianza della compiacenza di questa amministrazione, che in tutti questi anni ha saputo coccolarli a dovere, mentre i nostri giovani emigrano all'estero per trovare lavoro e i padri di famiglia perdono l'occupazione senza trovare una nuova collocazione. Parole dure del consigliere regionale della Lega Nord Stefano Cavalli, il quale annuncia poi che il carroccio alzerà le barricate. È triste e irritante constatare ancora una volta che questa amministrazione guarda solo a nomadi, immigrati e ultimi arrivati, lasciando in secondo piano i nostri giovani, le nostre famiglie, i nostri anziani, vittime della crisi. Basta buonismo, diciamo no a questo raduno.